Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV Dramma, questa mattina a Soci in Casentino dove il 118 è dovuto intervenire intorno alle 9.45 per soccorrere una settantenne che si era accasciata a terra per un malore improvviso. Un'ambulanza infermierizzata della misericordia di Bibbiena era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo nonostante le manovre di reanimazione durate anche a lungo la donna è deceduta sul posto anche i carabinieri. Un incidente questa mattina in un campo base scout nel cuore del parco delle foreste casentinesi, un ragazzino ancora minorenne è rimasto ferito ad una spalla. È successo intorno alle 12 nel comune di Prato Vecchio Stia sul posto i sanitari a bordo di un'ambulanza infermierizzata della misericordia di Bibbiena e i vigili del fuoco. Il ragazzo si trovava in una zona difficile da raggiungere così i vigili hanno supportato i sanitari nelle delicate fasi del trasporto proprio del ragazzo che poi è stato trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Ancora un incidente, uno scontro tra auto e moto è successo in via Alfieri ad Arezzo poco dopo le 13. È rimasto ferito il centauro, un 55enne. L'uomo è stato trasportato al policlinico Le Scotte di Siena in codice giallo sul posto per i rilievi di legge, la polizia e la polizia municipale. La sanità retina perde personale e il personale perde diritti. L'allarme è della funzione pubblica della CGL. La sanità retina perde personale e il personale perde diritti. È la funzione pubblica della CGL a tornare sul tema sanità e lo fa adesso con una lettera inviata al vertice dell'Asla Toscana Sud-Est con la quale esprime forte preoccupazione sulla tenuta dei servizi sanitari e sulla capacità di dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini. Il sindacato infatti ricorda la cronaca e allarmante carenza di personale, peraltro certificata con il bilancio consuntivo 2022 che riporta un taglio di ben 312 teste rispetto al 2021 e che continua nel 2023 con un'altra sforbiciata superiore alle 100 unità. Il sindacato contesta poi le soluzioni adottate dall'azienda sanitaria che sta nominando il sistema introducendo meccanismi retributivi che non assicurano equità e pari dignità tra le diverse professioni. Non si assume, poi aggiunge, ma in compenso la spesa per straordinarie prestazioni aggiuntive lievita. Tra i problemi della sanità toscana e quindi a retina, il segretario provinciale Gian Maria Ciai cita il riconoscimento dei diritti contrattuali, sanciti dal contratto nazionale 2016-2018 solo in presenza di una decisione del magistrato. I tempi di vestizione e svestizione, spiega, sono previsti nel contratto nazionale e sanciti in prima istanza da un accordo regionale del 2017. La CGL aveva ottenuto, attraverso uno specifico accordo aziendale, che la piena applicazione della norma avrebbe avuto inizio con l'entrata in vigore del contratto nel 2018 che prevedeva che i 10 minuti fossero riconosciuti a tutti coloro che sono tenuti ad indossare una divisa da lavoro. Sono passati anni e troviamo sconcertante che l'azienda riconosca questo diritto solo a chi fa causa. Chiediamo dunque chiarezza, ma soprattutto, conclude Ciai, che la direzione risponda per il danno arrecato ai lavoratori e nei confronti di chi, come noi, difende e tutela i diritti di tutti i lavoratori. E in merito a questo è arrivata subito la risposta della ASL Toscana Sud-Est. In provincia di Arezzo affermano in una nota ufficiale, c'è stato nel 2023 rispetto al 2022 un aumento di personale di circa 50 unità. I lavoratori sono la risorsa aziendale più preziosa per garantire le giuste risposte ai bisogni di salute dei cittadini dei nostri territori. Quindi l'attenzione su questo tema è massima. E ancora un intervento dei mezzi dell'emergenza urgenza dell'ASL Toscana Sud-Est. Questa mattina presso la località Castello di Calcione, nel comune di Lucignano, intorno alle 10. Una donna è stata colpita dal calcio di un cavallo, una 65enne, che è stata poi trasportata in codice giallo alle scotte di Siena, sul posto anche il personale ASL del PILS. Torniamo a parlare ancora di sanità perché c'è un botta e risposta sul punto nascita del Valdarno tra il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, e l'ASL. Sentiamo prima la posizione proprio del sindaco di Montevarchi. E con una lettera aperta rivolta a tutto il personale del punto nascita dell'ospedale del Valdarno ma anche al direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est, Antonio Durso, che il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, torna a chiedere certezze e investimenti per il futuro del reparto. Mi trovo a scrivere nuovamente, spiega il primo cittadino, dopo il rischio chiusura del punto nascita nel periodo estivo per la carenza cronica di personale da 6 o 7 anni e mai sostituito. La situazione non dà alcuna garanzia per il futuro, con mancanza chiara da anni di investimenti sulla strumentazione. La vasca per il parto è stata sostituita solo dopo molti mesi e sul personale, aggravata anche dalla mancanza di un primario in pianta stabile. Chiassai si rivolge dunque ad Urso e aggiunge, chi ha la responsabilità della salute pubblica, anche se a diversi livelli, ha il dovere di tutelare ed offrire le condizioni migliori possibili, necessarie a coloro che utilizzano il Servizio Sanitario Nazionale e a coloro che ci lavorano. Per mia parte assumerò tutte le azioni istituzionali necessarie a tutelare un diritto che non può essere messo in discussione. Come sindaco aggiunge, richiedo chiarezza in primis per l'uscita urgente del concorso per primario di ginecologia ed ostetricia. Infine, chiassai si rivolge a tutto il personale del reparto. Voi siete la risorsa più importante che abbiamo, siete indispensabili e se voi rinunciate inconsapevolmente, aiuterete questo progetto irrispettoso di depotenziare e indebolire una comunità intera. La risposta dell'ASL su questo è stata che il punto nascita non è a rischio. L'ASL Toscana Sud-Est conferma che il 4 luglio è stata deliberata la selezione per il conferimento di un nuovo incarico di direzione proprio di questa unità ospedaliera appunto di ostetricia e ginecologia ed è in atto la pubblicazione dell'avviso ad opera di Estar sul bollettino ufficiale. Insomma, staremo a vedere poi appunto come si chiuderà questa vicenda. Adesso invece parliamo di Ponte Buriano. Come sapete è in costruzione il cosiddetto ponte alternativo. Anzi, a questo punto possiamo dire che è quasi terminato. Chiara Sadotti. Diciamo che sono abbastanza avanti come lavori, sì. Il ponte provvisorio che permetterà successivamente di liberare il traffico su Ponte Buriano è quasi ultimato. Mi sembra una cosa molto più importante diciamo a livello archeologico e a livello pedonale. E' un ponte romantico per me. Sono infatti conclusi gli interventi di messa a dimora dell'infrastruttura. Il collegamento è così pronto per essere asfaltato. Il ponte bis si trova a Monte dell'attraversamento romanico. L'opera è costata 1,6 milioni di euro. Fondi sviluppo e coesione assegnati attraverso l'intervento diretto del Ministero. In fase di realizzazione anche le opere della nuova viabilità che modificheranno il tracciato della Sette Ponti nel tratto prossimo all'Arno. La consegna dei lavori del ponte provvisorio alla provincia di Arezzo ente committente è fissata per il prossimo 5 ottobre. Avrebbero dovuto farlo cent'anni fa quello di riuscire al traffico senza ombre di dubbio. Spero che il ponte provvisorio di là rimanga, sia provvisore realmente, non rimanga per secoli anche quell'altro. A questo mi auguro. Si tratta di un'opera provvisoria utile alla realizzazione dell'attraversamento definitivo per un impegno di spesa che invece ammonterebbe a 21 milioni di euro stando alle carte presentate dallo studio incaricato della sua progettazione. Entro la fine dell'anno la struttura provvisoria verrà collaudata. Sbarcano anche ad Arezzo le stazioni di ricarica ad alta potenza per i veicoli elettrici. Sono in tutto tre quelle che si trovano lungo la rete autostradale del tratto a retino dell'autosole. Ed esattamente a Baglia Alpino Est e Ovest e ad Arno. Ad annunciarlo è stata proprio la società autostrade per l'Italia che appunto ha fatto il punto proprio sui siti messi in funzione su tutta la regione toscana. Un risultato importante è quello centrato dal comune di Prato Vecchio Stia che ha ottenuto un milione e mezzo di euro da destinare alla messa in sicurezza della frana di via Fanfani interessata da un ampio movimento franoso e da notevoli problemi di regimazione idraulica. L'intervento prevede di concludere il progetto entro il 2025. Un mix tra sacro e profano dall'equilibrio quasi perfetto. Viene voglia di definirlo così il nuovo ciclo di alti scaffali. La rassegna ideata dalla Biblioteca Città di Arezzo insieme a Feltrinelli Point e Fondazione Guido d'Arezzo ai giganti del calibro di Alessandro Barbero e Federico Rampini verrà affiancata l'altrettanto massiccia presenza scenica e geniale ironia del trio comico a retino più celebre degli ultimi tempi, gli avanzi di Valera. Vediamo allora i nostri due servizi. Anche la denominazione alti scaffali di questo ciclo di conferenze è dovuta al fatto che noi abbiamo cercato di coinvolgere in questo ciclo i numeri uno attualmente del giornalismo e di varie discipline. Si chiama Alti Scaffali e porterà in città nomi di grande prestigio. Due gli appuntamenti del ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca Città di Arezzo, dalla Fondazione Guido di Arezzo e in collaborazione con Feltrinelli Point. Il primo settembre sarà ospite Alessandro Barbero con l'incontro dedicato a Brick for Stone, il suo ultimo libro con al centro l'attentato alle torri gemelle. La seconda conferenza è il 16 settembre con Federico Rampini che avrà per titolo Africa dove si gioca il nostro futuro. C'è bisogno oggi più che mai in un contesto dove le informazioni che ci arrivano spesso sono eterogenee, contraddittorie, spesso sono delle fake news, cioè notizie fasulle, di riflettere sulle notizie stesse in maniera tale da renderle conoscenze efficaci nella vita anche personale delle persone e quindi abbiamo bisogno anche degli intellettuali. Ad ospitare agli incontri la fortezza di Arezzo. Quindi queste sono due ciliegine che vengono aggiunte a una stagione estiva che prolunga ed offre ad Arezzo e non solo un'offerta, mi sento di dire, culturale importante. Siamo un'interfaccia nei confronti della Rettini. Noi saremo violente, siamo disposti ad asse anche con gli altri espronenti di questa manifestazione. Ci saranno forse delle risse, state attenti e venite impauriti. Saranno loro gli avanzi di Balera a chiudere le serate del ciclo di incontri alti scaffali. Santino Cherubini, Alessandro Lisi e Francesco Maria Rosse interverranno e dialogheranno con il pubblico sui temi trattati nel corso delle due serate, ovviamente con la consueta indole dissacrante e umoristica. Noi siamo qui per controllare che non dicano castronerie, insomma, perché siamo qui veramente a vigilare sul linguaggio e soprattutto sull'autenticità dei concetti espressi. Uno parla dell'Africa, l'altro dei mattoni. Oltretutto faremo un po' da traduzione per gli aretini, perché gli aretini, parliamoci chiaro, è un popolo, non dico dislessico, però comprende poco concetti alti. C'è un altro scaffale degli aretini. Esatto, sì. Allora noi cosa si fa? Si deve ridurre in un linguaggio, diciamo, adeguato, comprensibile al popolo aretino. Innanzitutto, noi siamo... Dindelo che siamo al carcere di San Benedetto, dai, che si è rubato ieri sera nella cassetta delle lemosi. Siamo messi un po' male, infatti ora se facciamo questa reentrere ci siamo rimessi così, non è che non ci siamo, perché tutti ci chiedono perché vi siete divisi? Non è che ci siamo divisi, è che abbiamo avuto... Perché non ci si poteva mica moltiplicare. Certo, è solo che eravamo così in sonno, come dicono delle spie, e adesso siamo tornati qui perché non ci sa più una lira, siamo ridotti male. Insomma, un trio di antropologi aretini, ma forse addirittura etimologisti. Le dominazioni che ci sono state nei secoli, a noi, invece che condizionare la nostra lingua, i nostri costumi, siamo stati noi che abbiamo condizionato gli altri. Dottor Rossi lo dice da secoli. Da secoli appunto, a parte i francesi che hanno imparato a dire andiamo a Nusalon attraverso Alope, che l'hanno sentito in Val di Chiana, ma anche gli inglesi, Oies, viene da Ovie, Oie, Ie, è in a rete, hanno sentito Oie... E il gatto viene dal gatto. Il gatto viene dal gatto, ma ce ne sono tante altre che citeremo perché appunto la lingua aretina ha veramente condizionato la comunicazione della lingua. C'è la parola clistere che mi dà l'aretino, per ora non mi ricordo la lingua. Anche il giapponese, ceso ito, o toh. Il giapponese per esempio. Lei ha detto, ha fatto riferimento al gatto, è importante. Il gatto è l'unico dolce al passato remoto e questa è la cultura, ecco. Chi lo sapeva questa cosa... Questa si castica della cultura, espressione del genus loci. Se avete un neurone solo non è colpa nostra. Un presepe vivente ad agosto. L'insolita iniziativa è ospitata da Chiusi della Verna in un anno particolare, il 2023, in cui si festeggia gli 800 anni dal primo presepe di San Francesco a Greccio e della regola francescana. L'Associazione Nazionale Città dei Presepi è infatti pensato di aprire il Festival Francesco 4.0 a La Verna dall'11 al 20 agosto con una rappresentazione vivente. L'appuntamento è per venerdì 11 a partire dalle 16.30 proprio a Chiusi della Verna quando i figuranti del presepe vivente lungo fiume di pescia che ambienta da sempre la rappresentazione al tempo di San Francesco guideranno proprio nel centro della cittadina, nello scenario di Villa delle Rose. La rappresentazione a cui prenderanno parte anche i figuranti del presepe vivente Chiusino. Dal 12, scusate, al 15 di agosto con anteprima il 10, tra le strade di Castiglione Fiorentino prenderà il via l'edizione 2023 del Vintage Festival, 70 espositori all'interno del market e poi ancora disciochei e ballerini. Sono questi i numeri appunto del festival che sta per prendere il via a Castiglione Fiorentino con questa singolare anteprima che vedrà arrivare nel paese della Valdichiana Joe Bastianich con una tappa del suo tour che da maggio lo vede calcare i palchi delle principali città della penisola insieme alla band partenopea La Terza Classe. Il suo concerto è previsto alle 21.30 nell'area del Garden con ingresso gratuito. E infine chiudiamo con lo sport perché l'Arezzo scommette anche sui giovani. È arrivato in Amaranto Alessandro Rezzi. Sicuramente sono molto contento di arrivare a una piazza storica importante come Arezzo e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. L'anno scorso sono riuscito a realizzare diversi gol e diversi assist ma sicuramente la mia capacità è anche la corsa e la quantità e sono venuto qua a dare una mano alla squadra. Conosco di vista e mi hanno detto parecchie persone la qualità di questa squadra e i nomi di diversi giocatori. Mi aspetto una crescita personale che comunque è il primo primo anno fra i professionisti, fra i grandi e cercherò di dare tutto a me stesso. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci.